Francesco Filippi E cosa significa fare memoria e soprattutto aiutare a fare memoria dei ragazzi giovani che consumano il tempo in un nanosecondo? Diciamo che la memoria è il modo che abbiamo tutti noi per andare nel passato a prendere degli spezzoni di ciò che è accaduto per renderlo importante per l'oggi. Il passato è ciò che siamo. Fare memoria significa riscoprire da dove veniamo in maniera un po' retorica ma anche le possibilità che abbiamo per il presente e per il futuro. Fare memoria per i giovani, ma oserei dire per tutte e tutti, è un valore di per sé ed è un valore di costruzione di valori. È il modo che noi esseri umani abbiamo per conoscerci, per sapere ciò che siamo stati e anche per poter provare a prevedere che cosa potremmo essere. È una speranza di passato ma soprattutto una speranza di futuro. Grazie a tutti.